La locomotiva Vapore 740 arriverà puntuale alle 15 al binario 1 della stazione di Foligno e a scendere dal treno con il suo abito rosso e la folta barba bianca sarà un babbo natale speciale, nessun sacco pieno di doni ad accompagnarlo ma un messaggio di carità per la comunità chiamata a farsi prossima nei confronti di chi, dato il periodo storico molto complesso e delicato, vive situazioni di disagio. La forbice della povertà infatti continua ad allargarsi coinvolgendo sempre più famiglie del territorio ed è a loro che anche in occasione delle imminenti festività natalizie corre il pensiero della Caritas diocesana e della Polizia Ferroviaria promotrici in collaborazione con Trenitalia RFI e DLF dell'iniziativa Un Viaggio d'Amore da Bethlehem in programma domenica 17 dicembre alle 15 alla stazione di Foligno. Dopo il grande successo riscosso nel 2016 infatti torna per il secondo anno consecutivo l'evento di solidarietà con cui si vuole regalare un sorriso ai più piccoli e far sentire meno sole le famiglie in difficoltà.